Noi a Cagliari siamo una squadra molto educata e molto rispettosa L'Adezzi scivolato parola L'Adezzi vuole la serpentina L'Adezzi 1-0 Napoli e il pocio slano speciale Dimelo, dimelo che passa, che passa, dimelo che passa Dimelo, dimelo che passa Amsic riceve questo pallone, torna sul sinistro Amsic Amsic fa la messa fuori e poi in due tempi arriva il gol del 2-0 Gliadina, tu sei tutti sceme, ma passa prima signor E tu ho un po' dall'educazione, mia che figura mi fai Tu sei tutti sceme e non capisco quasi niente Nuovo cross, palla dentro, deviazione, due a due, il pareggio di Matri, due a due. Ma che passa, che passa, dimmelo, dimmelo che passa. Palla verso Lazzari, la tieni in campo, poi prova, occhio al cross dentro, verso Seda, tre a due, tre a due, Seda al primo pallone. A vedere il finale di partita dal tunnel, si potrebbe giocare fino al 52esimo, intanto siamo al 52esimo in corso. Amsic con il pallone verticale, Grava lo può difendere, in dieci il Napoli, la battuta dentro, colpo di testa, Marchetti, un po' voglia sino. Goal è il tre a tre, goal è il tre a tre, esulta Lavecci, esulta Lavecci, al 51esimo, gol, urla Lavecci, che finale incredibile di partita. Al 51esimo minuto il Napoli trova il tre a tre, qualcosa di incredibile. paga il lancio nel relativo, perché qui è quasi in nato con caldo. Ma che passac약i con te, come ti amo? Io voglio continui, dimmelo, dimmelo, dimmelo che passa. Oh no Dio, dimmelo, dimmelo, che passa. Mmm eh, che passa? Dimmelo, dimmelo, dimmelo che passa. Roba, Roba, Roba! Noi a Cagliari siamo una squadra molto educata e molto rispettosa, per me non mi interessa niente anche perché sono una persona molto educata e rispettosa e non mi confondo con altri. Noi abbiamo un comportamento molto corretto e purtroppo fa male ma è la verità e noi a Cagliari siamo una squadra molto educata e molto rispettosa.